Carissimi amici siamo sempre qui in questa bellissima spiaggia che vedete come dico sempre è orre vuota ma poi quest'estate si animerà di suoni, colori, di magia ma soprattutto di tanto amore e solidarietà. Siamo qui con Deborah, ciao carissima, che ormai è con noi in ogni puntata dell'associazione Insieme a Te e ogni volta ci racconta un po' di questa bellissima idea. Oggi ti vorrei chiedere, nell'ultima intervista mi parlavi appunto dei servizi che voi avete qui e che come volontari partecipano anche medici, infermieri però non è una priorità nel senso che comunque il disabile che viene qui viene accompagnato dalla famiglia cioè la famiglia che segue il suo familiare in tutto e per tutto, voi fate da supporto. Assolutamente, la responsabilità rimane comunque sempre ai familiari anche perché noi lo diciamo sempre i migliori assistenti sono proprio i familiari che comunque gestiscono i loro figli, mariti, mogli che li hanno 24 ore su 24 quindi assolutamente noi siamo solo in supporto. Poi ovviamente l'anno scorso su 370 volontari abbiamo avuto ad esempio 21 persone che comunque operavano nei servizi o infermieri o medici o os. Allora è importante che ci siano anche figure comunque nel sociale assolutamente ma io dico sempre anche che ai nostri ragazzi viene comunque insegnato a fare quello che poi è il minimo indispensabile che dobbiamo fare in questa spiaggia. Come comunque usare un sollevatore, come comunque portare semplicemente i nostri ospiti in acqua. Ovviamente io lo ribadisco sempre, ci vuole buon senso in queste cose quindi quando comunque ci sono dei ventilatori è ovvio che è giusto che comunque li tengono i familiari in mano. Certo. Non diamo neanche troppa responsabilità a questi ragazzi perché comunque sia sono ragazzi che sono qui per assaporare questa realtà qui, per viverla ma non per avere responsabilità grandi che comunque non gli devono competere. Certo, certo. E quindi per noi è importante, ribadisco gli infermieri, i medici che vengono qui sono comunque amici che vengono a darci una mano, quasi sempre uno è presente ogni giorno o alla settimana comunque c'è, però ecco siamo solo in supporto perché qui di ospedaliero non c'è nulla comunque, è una spiaggia e quindi si cerca di fare quel che si può nei nostri limiti. Allora parliamo di spiaggia, parliamo di servizi, di insieme a te. Sì, dunque allora i servizi di insieme a te, allora quindi noi disponiamo di, adesso mi viene da dire così diciamo 16-17 posti, forse arriveremo anche a 20 posti quest'anno. Sono lettini grandi, quindi un pochino più grandi di quelli normali, dove mettiamo comunque materassi in tecubito, dove comunque ci sono anche le tende per chiudersi nel momento del cambio. Quindi una persona, diciamo, io parlo sempre da quelle più gravi, diciamo, che viene comunque su dal bagno, fa la sua doccia calda, dopo ha la possibilità comunque di cambiarsi all'interno del suo box, lo chiamiamo, in piena libertà e autonomia, ma sempre in privacy. Non è importante questo, quindi abbiamo le docce calde, abbiamo ogni tipo di sedia che può portare un tipo di disabilità in mare, da quella più grave a quella magari anche solo un paraplegico. Quindi cerchiamo un attimo di essere, io dico sempre, a 360 gradi su tutto. Ci proviamo, è solo il terzo anno, però ecco, ci mettiamo tutto il nostro cuore perché venga fatto tutto sempre con criterio. E i servizi abbiamo il Pedalò, anzi il Dedalò, da quest'anno che è stato battezzato Dedalò. Che il nome nasce da? Da Deborah Dario, Pedalò, quindi è dato Dedalò. E quindi anche l'anno scorso è stato usato tantissimo, persone che non erano neanche mai state. Quindi in Pedalò è una cosa simpaticissima per i nostri ragazzi e ovviamente i nostri ospiti che si fanno il loro giretto durante la mattina. Abbiamo avuto la bicicletta che carica comunque le carrozzine, che è stata una grande novità, che ha permesso comunque a un familiare di portare comunque a fare un giro qui per Punta Marina il suo figlio, insomma marito e moglie in carrozzina. Sì, è stato un bellissimo servizio. Un altro servizio ancora molto bello che noi ci teniamo sempre a sottolineare è quello in collaborazione con l'associazione Marinando di Marina di Ravenna. I nostri ospiti vengono qua, fanno anche il giro in barcavela, grazie proprio a Marinando che li porta a fare un giro in barcavela. Una cosa meravigliosa anche questa perché non da tutti è da fare il giro in barcavela e i nostri ospiti fanno anche questo. Ma che meraviglia, quindi ragazzi assolutamente chi ha voglia che sicuramente i nostri amici che ci guardano da casa è scattata questa idea. Peraltro siamo anche molto vicini perché siamo in Romagna, siamo a Punta Marina Terme quindi è anche facile arrivarci e ci sono queste opportunità. Mi è piaciuta tantissimo la maglietta ma te lo chiederò poi nella prossima intervista che dice dove andiamo a respirare un po'. Quindi ringrazio Deborah per essere stata di nuovo con noi, ringrazio voi per averci ascoltato, vi ricordo di cercare l'associazione sui social nel sito www.insiemeate.org per magari venire a respirare un po' di quest'aria di cui parleremo comunque nella prossima puntata. Ciao Deborah, grazie. Grazie a voi.